È inaccettabile che all'interno del Palazzo di Montecitorio venga fatta nella giornata di giovedì 9 febbraio una conferenza stampa organizzata dall'On. Pellegrino per, nella sostanza, negare il dramma delle foibe e la persecuzione di molti cittadini innocenti da parte dei comunisti titini. Infatti è stata organizzata dalla deputata di SEL un incontro con la stampa dove parteciperà anche una storica negazionista che offende la memoria di tutte quelle vittime innocenti. A questa signora, quando gli si domanda cosa significa oggi commemorare i morti delle foibe, risponde commemorare i morti delle foibe significa sostanzialmente commemorare rastrellatori fascisti e collaborazionisti del nazismo. Questa è una cosa inaccettabile. Per prima cosa la deputata Pellegrino dovrebbe dare le dimissioni perché non può pensare di poter rappresentare i nostri territori portando avanti iniziative di questo tipo che sono offensive e umilianti per vittime innocenti. Dall'altro lato ci auguriamo che la Presidenza della Camera neghi l'autorizzazione di portare avanti iniziative di questo tipo all'interno di istituzioni democratiche della Repubblica. Noi continueremo questa battaglia e ci auguriamo che tutte le forze politiche ci appoggino perché questo vuol dire rispettare la storia, rispettare i drammi che i nostri territori hanno vissuto per mano dei sanguinari titini comunisti.